L'Associazione di Promozione Sociale per la Salute di Nanselmi si è rivolta al Presidente della Regione Siciliana, l'On. Schifani, inviando un documento per chiedere il giusto riconoscimento ad un territorio, quello nisseno, che ha subito in questi anni una progressiva desertificazione in termini socio-economici e per illustrare un incontro, in base a quanto contenuto, nel documento dall'istituzione del quarto polo a Caltanissetta, che secondo Noi per la Salute darebbe il via a una serie di benefici che andrebbero nella direzione di un ulteriore impulso alla qualificazione dell'offerta sanitaria in una realtà caratterizzata da una forte emigrazione sanitaria, dando così a un territorio provato un'occasione di rilancio. Proprio l'Associazione Noi per la Salute è fortemente impegnata in attività rivolta a sostenere iniziative che possono consentire un miglioramento dell'offerta sanitaria in quella che è la provincia nissena. Tra le proposte è anche quella del miglioramento dell'offerta sanitaria didattica di ricerca che sempre, secondo l'Associazione, potrebbe consentire una piena integrazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università. Nel documento hanno inoltre spiegato come il vecchio ospedale Vittorio Emanuele di Viale Regina Margherita, di proprietà del Comune, potrebbe essere la sede dei primi tre anni di medicina e il CEFPAS, di proprietà della Regione Siciliana, potrebbe essere sede del secondo triennio della Facoltà di Medicina. L'Associazione spera inoltre sia attivato presto un tavolo di concertazione tra l'assessorato alla salute e i rettori delle università siciliane per concordare nuovi protocolli di intesa ed infine, riguardo all'articolo 41 della legge 22 febbraio 2023 finanziaria sulla possibile istituzione del quarto policlinico in Sicilia, sottolinea, sarebbe il naturale completamento di quanto già programmato per il quarto bacino della Sicilia, visto anche il favore e l'interesse della popolazione della comunità nissena che ha partecipato alla manifestazione del 10 marzo scorso e sostenuto con 4.000 firme, che sarebbe così un'occasione di rilancio socio-economico di questa comunità.